Ciao a tutti, qui abbiamo un vecchio scrittore, l'Adler 7. La compagnia Adler era fondata dal son di un meccanico che iniziò a construire scrittori scrittori nel comando dell'ultimo settore, quindi è una molto vecchia compagnia. Il Tiberighter ha un design plesante, con la decorazione d'olio sulla coperta, con il nome di macchina e il nome di manufattura. Nel stesso anno l'Adler compagnia bicicletta e, se guardate l'adler logo, c'è la ruota di bicicletta. Inoltre, da che non c'era un mercato di vendita di macchina, l'Adler in Italia vendò questi Tiberighter per i loro compagni di bicicletta. Questo Adler ha un piatto di keyboard italiano, è venduto in Italia e qui c'è un piccolo piatto con l'italiano reseller dei Tiberighter, Carlo Glockner. Milano è la città, e questa linea significa rappresentante generale per l'Italia. Adler costruiva Tiberighter e dispositivi office per tutto l'ultimo settore, e anche produsse cari, motori, motori, aeroplane, eccetera. Poi diventò Triumph Adler e finalmente vendò a Olivetti la compagni. Se guardate il numero seriale qui, questo Tiberighter dovrebbe essere costruito circa 1909. Il numero seriale è messo anche su molti altri parti del Tiberighter, almeno in quattro paesi, qui sotto la carica, per esempio. Penso che era per evitare il Tiberighter di essere scoperto. Il Tiberighter ha survived più di 100 anni, ma ha un corpo molto forte e è molto pesante, quindi non è strano. L'Adler 7 era famoso per la sua robustezza e la relazione. La macchina costruiva circa 100 kg. Penso che è interessante perché il design di questo Tiberighter e questo layout seguiva un concetto diverso di un concetto diverso di un concetto di Tiberighter. Era un concetto di Tiberighter e non un standard comunale aveva ancora stato definito. Il backspace, oggi, è comunemente un tasto, ma qui è un tasto, questo sul right. Tiberighter consista di tre ruote di 10 bottoni ogni. I numeri non sono nella prima ruota dei bottoni, ma nella seconda ruota. Quindi, con i 30 bottoni, fino a 19 caratteri diversi possono essere entrati, in cui, con un po' più piccolo keyboard, è una idea di ingegneria smart. Tutto il botone ha le lettere proteggene dal piccolo glasso. Puoi anche uscruirlo per pulire e mantenere. Vedi che in alcuni bottoni ci sono tre signori, è perché ogni leggero può avere tre caratteri. Possiamo vedere qui, nella barra di caratteristica ci sono lettori di lowercase, lettori di uppercase nel medio e numeri e signi nel basso. Vedete? Abbiamo tre livelli di lettere, abbiamo qui anche due cambiamenti per le lettere. Qui, questo livello con Z e G. Un po' rustico, molte volte ha passato. G, in germano, si tratta di Grosse Buchstaben, significa lettere capitali. Z, in germano, si tratta di Zeichen, significa caratteristica. Se non pressi nessuno di questi cambiamenti, scrivete le parti superiori del caratteristica sulla barra. Sono le lettere di lowercase, o il signo sul top del botone, questo. si tratta di Z, scrivete il simbolo sulla parte inferiori del caratteristica. Se non pressi nessuno, scrivete il simbolo sulla parte inferiori del caratteristica. questo è il signo sul bottom del botone. Questo livello è il lock cap, molto diverso dal botone moderno. Alla direzione c'è un altro livello con due lettere A e E. A, in germano, si tratta di Hausrücken. Con pressi il key, la posizione margine di margine è completamente rilisata. E, in germano, si tratta di EIN Rücken. Con pressi il key, il caratteristica si tratta per iniziare una nuova linea, invece di al punto definito dalla posizione margine di margine. Il risultato margine di margine è questo botone sulla right. Si tratta di scrivere alcune lettere dopo la margine di margine. Questo livello sotto la bollina è facile per rilisare la direzione del ribbolo. Quando finisci il ribbolo su un'altra parte, questo livello lo rilisata sull'altra direzione. In questo piccolo cordone, puoi inserire la ruota del caratteristica. Il caratteristica può essere rilisata per rilisare o mantenere. Questo è il meccanismo per rilisare la bellissima quando la margine è niente. Non è buono? Il ribbolo è niente solo. Il cubo di ribbolo ha l'altro logo. La funzione speciale è che le bar corrette scendono orizzontale sull'interno e poi convergono a un punto centrale. Questo ti permette di vedere immediatamente cosa scrivete. molto bene anche di rilisare l'interno. Questo sistema fu inventato per avere più silenzio. e quindi scrivete. Evviste la barca spaventando il caldero, quindi è meno ruota. Proviamo a provare qualcosa. the bar moving. Qui c'è l'interline e con questa ruota sotto il livello puoi regolare l'interline che vedete. Il piccolo livello sull'interline è libero l'interline. Ora puoi muovere fremente il ruota senza passaggi. E qui ha passaggi di passaggi. Questa piccola livello sull'interline è per bloccare il ruota del ruota. Questo bottone è per muovere il ruota in volta e in avanti. Questi sliders sono la margina. Puoi impostare qui. Ci sono molte regolazioni possibili. Questa scuola centrale è la scuola tensione per l'armatura del ruota, i piccoli ruoti sotto il ruota. Questa scuola a destra è la scuola tensione per il ruota tensione. E' molto complicato da usare. Non è vero che, a volte, un typista dovrebbe essere trainato nel uso di questo typewriter. Ma è ancora molto bello, con il suo design round, low profile e un sistema unico di bar. mi piace. Molte grazie per la visione. Buon giorno. la感謝 della date. Questa scuola è un nuovo video. Cioè... Grazie a tutti